Salve a tutti amici di Campania Nel Pallone, eccoci qui ritrovati per il consueto appuntamento con il punto del giorno dopo. Napoli che ieri ha pareggiato 2-2 contro il Bologna, un risultato che non permetterà agli azzurri di poter battere il record di 91 punti stabilito nella stagione 2017-2018 con Maurizio Sarri in panchina. Ma ovviamente ciò che conta è che il Napoli è campione d'Italia, lo è dalla trentatresima giornata in un campionato letteralmente triturato e nella giornata di domenica allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della premiazione ufficiale vedremo Capitan Giovanni Di Lorenzo alzare al cielo di fuorigrotta la Coppa dello Scudetto che in questi giorni è presente al negozio team situato in Via dei Martiri dove tutti i tifosi sino al 3 giugno avranno la possibilità di scattare gratuitamente una foto insieme al trofeo e sicuramente quella del prossimo 4 giugno sarà un'altra giornata ricca di emozioni perché sarà anche il giorno dell'ultima apparizione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli ieri sera Aurelio De Laurenti il presidente alla trasmissione che tempo che fa su Rai 3 ha definitivamente confermato ciò che ormai era ben chiaro già da diversi giorni ovvero che purtroppo Luciano Spalletti non sarà più l'allenatore del Napoli e prenderà un anno sabbatico dopo l'annuncio del presidente quest'oggi ne ha parlato apertamente anche lo stesso tecnico che è stato di parola considerato che in occasione della conferenza stampa tenutasi alla vigilia di Napoli Inter aveva dichiarato di lasciare l'annuncio ufficiale alla società e dunque una volta arrivato l'annuncio del presidente De Laurentiis Spalletti ha chiarito quelli che sono i motivi del suo addio e in base alle dichiarazioni da lui rilasciate si può dedurre che il motivo principale dietro la separazione è che ovviamente lui ritiene concluso il suo ciclo all'ombra del Vesuvio Luciano Spalletti si è detto stanco, bisognoso di riposo è chiaro che dispiace, dispiace molto perché il desiderio di tutti noi che abbiamo a cuore le sorti del Napoli era quello che si potesse aprire un lungo ciclo con il tecnico che ha riportato qui a Napoli il tricolore dopo 33 anni ma se lui non se la sente più di continuare se ha preso questa scelta è giusto rispettarla e non resta che ringraziare infinitamente Luciano Spalletti per quanto dato alla causa per quanto ovviamente dimostrato anche da un punto di vista umano nel corso di questi due anni perché davvero si è saputo immedesimare alla perfezione in quello che è il sentimento popolare della piazza non dimentichiamo anche il ruolo determinante che ha avuto nella pace tra la tifoseria organizzata e la società dopo che la situazione era diventata piuttosto burrascosa dunque davvero Luciano Spalletti è stato un grande condottiero sotto vari punti di vista e Napoli non può far altro che portarlo indelebilmente nel cuore così come lui avrà per sempre tatuato sulla pelle il grande traguardo che gli azzurri sono riusciti a raggiungere nel corso di questa stagione adesso ovviamente continua ad impazzare il toto allenatore personalmente spero tanto nell'arrivo di Luisa Enrique che sarebbe davvero il perfetto successore di Luciano Spalletti perché parliamo di un grande allenatore di un uomo di altissimo spessore dall'esperienza ben nota considerato che ha vinto davvero di tutto da allenatore del Barcellona e poi le sue idee tattiche sono perfettamente coinciliabili con quelle che sono le caratteristiche dell'organico del Napoli perché infatti l'obiettivo nell'andare a scegliere il nuovo allenatore è proprio quello di trovare un profilo che possa in qualche modo dare continuità al progetto tecnico intrapreso da Luciano Spalletti e tornando alla partita di ieri sicuramente al termine dei 90 minuti c'è stato un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata perché comunque sul risultato di 2 a 0 i tre punti sembravano in pugno per 60 minuti abbiamo visto un Napoli in pieno controllo un Napoli che stava portando meritatamente a casa la vittoria ma poi i cambi possiamo dire che hanno un po' scombussolato la squadra ma personalmente non me la sento di farne una colpa a Spalletti che giustamente in queste ultime partite a matematica certezza del tricolore acquisita ha voluto premiare coloro che nel corso di questa stagione hanno trovato meno spazio e nel loro piccolo hanno comunque contribuito alla realizzazione del grande sogno perché ovviamente coloro che hanno trovato meno spazio hanno, ripeto, contribuito a lasciare inalterato nell'intero arco della stagione il grande spirito di gruppo che si è venuto a creare all'interno dello spogliatoio e ciò non era assolutamente un qualcosa di scontato nel momento in cui ci sono dei calciatori che sicuramente avrebbero potuto rivendicare un maggiore minutaggio mi riferisco in primis a calciatori come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori che sono stati davvero esemplari mai una parola fuori posto e poi comunque non dimentichiamo i gol molto pesanti che sono riusciti a mettere a segno dunque è giusto che il Luciano Spalletti abbia voluto premiare tutti gli elementi della Rosa in queste ultime partite perché ovviamente questo è un successo di tutti dal presidente De Laurentiis fino a tutti gli uomini dello staff in questo grande sogno che si è realizzato c'è il contributo davvero di tutti e dunque detto questo al momento è tutto appuntamento ai prossimi giorni ovviamente ci attendono settimane piuttosto roventi considerato che siamo in attesa della scelta del nuovo allenatore e vedremo con il passare dei giorni come si evolverà la situazione ma secondo le ultime la prima scelta dovrebbe essere il prima citato Luise Enrique del quale però poi bisogna capire la fattibilità in base a quelle che sono le sue richieste di ingaggio dunque detto questo un saluto ed un ringraziamento a tutti gli ascoltatori di Campania nel Pallone appuntamento ai prossimi aggiornamenti